Anche il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, parteciperà al quarto forum internazionale del Gran Sasso che si terrà all'Università di Teramo dal 30 settembre al 2 ottobre, organizzato dalla Diocesi di Teramo e Datri. Numeri importanti per l'evento, al quale parteciperanno anche due ministri. Saranno 400 i relatori per 22 sessioni. Allargare gli orizzonti della carità per una nuova progettualità sociale, è questo il tema del forum? Sì, è un tema che ha messo molto a cuore, che è importante non soltanto per i fini di una propria ricerca, una riflessione accademica, ma piuttosto un'occasione per la vivere intensamente in questo momento storico, particolare della ripartenza. Ecco, credo che il tema allargare gli orizzonti della carità è una risposta a quell'esigenza che Papa Francesco ci ha richiamati, ha sollecitato nella sua enciclica Fratelli Tutti, che è quella di invitare gli uomini di ricerca, gli intellettuali, a trovare un approfondimento della realtà, una conscienza della realtà più piena e più integra. Sono numeri veramente importanti quelli del forum? Torna in presenza la conferenza dei rettori africani, quindi nonostante la pandemia, quindi torneremo ad accogliere i nostri colleghi del continente africano, e devo dire che è un'occasione di discussione unica, veramente per questo territorio, e con un'importanza notevole anche a livello nazionale e a livello internazionale, che vedono la Diocesi di Teramo e l'Università di Teramo al centro di tutto, ovviamente con la collaborazione di tutti gli enti, gli enti di ricerca, i vari enti locali, quindi è proprio un modo di fare squadra anche a livello culturale.